Il segretario del PD locale prima di attaccare dovrebbe informarsi la regione del Veneto, già da tempo sta lavorando sul progetto di elettrificazione della Bassano Trento e proprio le progettazioni sono state concluse nel corso del 2021. Queste le parole del vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, a seguito delle affermazioni del segretario di circolo del Partito Democratico di Bassano Luigi Tasca, intervenuto recentemente con una nota dove annuncia che Bassano si afferma al palo e sempre più isolata dal resto del Veneto, ma Finco fa notare le problematiche che la regione e di conseguenza la rete ferroviaria italiana si trovano ad affrontare. La montare totale della spesa è intorno ai 250 milioni di euro, una cifra veramente importante ma questa cifra è dovuta soprattutto alle difficoltà che ha questa rete ferroviaria in quanto nel tratto Bassano-Primorano ci sono numerose gallerie Inoltre Finco ribadisce che le attività relative al progetto di fattibilità dell'elettrificazione sono state completate nel 2021 con la strutturazione di tre pacchetti progettuali. Noi in questo momento stiamo chiedendo dei treni veloci, magari con due o tre fermati al massimo in modo da poter garantire ai pendolari, alle persone, agli studenti che ogni giorno raggiungono l'Università di Trento di avere dei treni con una percorrenza abbastanza veloce. Siccome la tratta ferroviaria che dovrebbe arrivare a Bassano è di competenza della provincia autonoma di Trento la Regione del Veneto sta collaborando con questa per l'introduzione di treni ibridi dotati di motore diesel e compatibili per le linee elettrificate e batterie che riducono i tempi di percorrenza con zero impatto sull'ambiente. La Regione del Veneto è sul pezzo però ovviamente servono tanti soldi e in questo campo ovviamente l'unico ente che può intervenire è il Ministero e quindi di conseguenza il Governo. Grazie. Grazie.